Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nero e ben ritrovati sul nostro canale E' uscito un nome nuovo per il centrocampo rosso nero Molti di voi penseranno, ma come? Abbiamo Kessy, abbiamo Sandro Tonali, abbiamo Ben Nasser, abbiamo Bakayoko, abbiamo Krunic E' vero, però lo sappiamo tutti che e speriamo che nei prossimi anni si possa mantenere sempre di più il ritmo delle partite che stiamo vivendo questa stagione Ovvero campionato, Champions League, Coppa Italia, dove il Milan deve per la sua storia, per la sua tradizione, per le sue anche future ambizioni Essere competitivo dall'inizio alla fine della stagione, quindi servono giocatori, perché le partite sono tante Servono giocatori e servono giocatori di qualità, e quindi il Milan sta pensando a Davide Frattesi Giocatore classe 99, 22enne, su cui ci sono tante squadre, mi dicono che l'Inter in questo momento è in forte vantaggio Perché Marotta che è sempre un po' attento, possiamo dire, al made in Italy, ai giocatori italiani Molte volte sia alla Juve che all'Inter sta in veste particolarmente sui nostri giocatori, sui giovani E allora anche il Milan è interessato a questo ragazzo, dicevamo, un classe 99, 22enne, nazionale italiano Alto 1,80, pesa 74 kg C'è una pista centrale che si sta mettendo in grande, in grande luce con la maglia del Sassuolo È un giocatore destro, che ha una valutazione di mercato importante perché si gira intorno ai 10 milioni di euro Quindi 10 milioni in relazione all'età, comunque è una buona valutazione E ha un contratto in scadenza con Sassuolo al 30 giugno 2025 Andiamo ad analizzare insieme le caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche del giocatore È un giocatore dinamico, un giocatore molto tecnico, molto bravo in interdizione Dove sa palleggiare molto bene anche i co-compagni Ed è soprattutto molto forte e abile negli inserimenti E soprattutto qual è il quid in più che ha questo giocatore? Che è un giocatore che ha grande tiro Quindi quando, soprattutto in un campione italiano, le difese si chiudono È un giocatore che ha anche la conclusione alla distanza Che è sicuramente un'arma molto importante E sa vestire molto bene anche i panni del rifinitore Finora in questa stagione con la maglia del Sassuolo ha collezionato 13 presenze Tra l'altro il Sassuolo è una realtà dove in qualche modo Carnevali, il suo staff Ha sempre un occhio di riguardo per il mercato dei giocatori giovani italiani E quando pesca il Sassuolo pesca sempre molto bene È un giocatore che ha collezionato 13 presenze, ha giocato 1083 minuti E ha realizzato tre reti questa stagione in Serie A Nella scorsa stagione in cui il giocatore era in prestito al Monza in Serie B Qui Biancorossi ha totalizzato complessamente 41 presenze Ha giocato 2763 minuti, ha segnato 8 reti e ha servito 2 Assis Quindi come vedete è un giocatore che nelle sue corde Che nelle sue statistiche, nelle sue prestazioni sa offrire e fare molti gol Finora in carriera con la maglia dell'Empoli, con la maglia del Monza Con la maglia della Roma Primavera E soprattutto con la maglia dell'Under 19 della Roma Ha collezionato complessivamente 202 presenze Ha realizzato 36 reti e fornendo 13 Assis Quindi numeri davvero importanti per questo giocatore Giocatore che tra l'altro conosce molto bene Ricky Massara Che nella sua esperienza alla Roma quando era un collaboratore Di Walter Savatini conosceva e ha conosciuto molto bene I giocatori cresciuti all'interno del settore giovanile della Roma Un settore giovanile da cui escono davvero tanti tanti talenti E questo giocatore qui la Roma ha avuto un po' la fretta in qualche modo di liberarsene Ed è un giocatore che adesso piace moltissimo dicevo all'Inter Piace molto al Milan perché è un giocatore giovane italiano Importante anche per le liste UEFA dove ci servono giocatori cresciuti In un settore giovanile del paese, del club Quindi il Milan va benissimo anche se è cresciuto nella Roma Quindi è un giocatore che per tanti motivi Per qualità tecniche, per status interessa al Milan E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiedendo di mettere mi piace Di condividerlo, di scaricare al YouTube di Rubrica Rosso e Nera